ciao a tutti ragazzi anche oggi parliamo di una maglia home e per l'esattezza questa qui abbiamo visto già la way di quest'anno qua questa maglia qua replica ufficiale alex del piero stagione 2000 2001 stagione non fortunata ma maglia a mio avviso bellissimo un po pacchiana come ho detto nella seconda varrà anche per la prima questa questo sponsor qua della ciao web però non era male come maglia cioè a me piaceva aveva un tocco classico della linea bianco nera e aveva un po di colore forse troppo è perché la ciao web poi già qua se non è stonava perché vedete lo stemma della ciao web non era proprio uno stemma semplice mentre invece lo stemma lo sponsor laterale a mio viso era proprio pacchiano perché vedete verde così cioè è il classico green screen no insomma quindi sponsor tele più uno degli ultimi anni tra l'altro di sponsor tele più e maglia appunto di alex del piero non ho molta molti aneddoti da raccontare questa valuta perché in realtà tutto quello che dovevo raccontare di questa maglia l'ho raccontato nell'altro video dove parlavamo di appunto di questa maglia mi ricordo alcune partite mi ricordo un 3 0 col con l'inter un gollasso allucinante di si su sitana che fece un pallonetto a freghe ecco quello è il mio ricordo di questa maglietta e la maglia quella secondo me con c'è il gol più bello fatto con questa maglia ma sicuramente verranno in mente altri la stagione e quell'anno lì e civide secondi dietro la roma però sappiamo tutti che con la partita ha inciso tantissimo e vi ricordate il gol di del piero esidan in quella partita non bastarono battere la roma ragazzi questa è la maglia jersey collection vi dà appuntamento col prossimo episodio ciao a tutti